Bella a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video di GTA, proseguiamo con le missioni Siamo al punto dove abbiamo lasciato la scorsa volta Arriviamo subito qua Oh Nico, tu vuoi andare a fare un film? Uhhhh Come on, come se non? Ok, chi è? Si è la cosa, è un uomo F*** tu Non c'è ragazzi! La soccità di quello che tu abbandon appelle, Lyle Revas, ha mi uno di bella e il d格ichamento di non si non ha il padro Inizia dice che mi avrei parlare, b***a Ha-ya! Brucie, tu devi tranquillare, per vero. Ora, ascolti, NB, questo è un po' di hide, ma è un serio... È un po' di seri un po' di me. Oh, quindi pensi di me? No, ma il po' di me conosce, e non credo che nessuno sarebbe da questo, Panslava. Quindi, sto facendo solo il tuo profilo. Allora, mi vediamo. I am a vulnerable guy, who needs to be held by big strong arms? Yeah. You gotta be kidding me! I knew we should have made him give another take, Brucie. Oh, shut up! Now, listen, Niki. I need you. And I will pay heavily for this. Okay. Andromen, cousin, you're a dick. Ha, ha, ha! Vai all'internet caffè! Che palle! No! Che mostro! All right, man, I'm at l'internet caffè. What now? The website is love meat! Go to it, bro! The guy you want to date with is using French Tom. That's his queen name. You heard animal, man. Eat him alive, okay? The wisdom was handed down for sure. Oh, un giorno lo faccio davvero. Roman's cousin, it's good to see you again. Yeah, good to see you. No. Emolo? Ok raga Abbiamo un appuntamento Ok raga anche per oggi La missione è completata Alla prossima Ciao a tutti